E di sera al centro di Battipaglia, l'Hotel Palace, è stato presentato in maniera ufficiale il movimento civico Avanti Battipaglia. Nel corso delle ultime settimane hanno aperto un dialogo con quanti hanno scelto di scendere in campo e candidarsi alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative 2021. Il movimento ha scelto la strada del confronto per capire chi può rappresentare con una progettualità a duratura, responsabile ed efficace la città di Battipaglia per i prossimi 5 anni. Avanti Battipaglia è un movimento politico nato da qualche settimana che ovviamente ha come obiettivo le prossime elezioni comunali ma non solo, perché è composto da tanti giovani, tanti professionisti e casalinghe, insomma ci stanno diverse anime in questo movimento che hanno poi a cuore l'interesse della nostra città e quindi non solo quello dell'interesse di arrivare alle prossime elezioni comunali ma poi di proseguire con un progetto civico, con un progetto che mira la crescita culturale di questa città. Avete già un nome di un candidato sindaco oppure vi aggregherete poi a una coalizione? Da tempo noi stiamo dicendo che vorremmo cercare di cambiare il modo e le modalità di fare politica. Non vogliamo far sì che ci si unisce attorno ad un nome e poi creare un programma, ma vorremmo partire da un programma e da un progetto per questa città e poi in un secondo momento aggregare il nome. Stiamo valutando, non si sa, sicuramente incontreremo tutti i vari candidati sindaco perché già tutti in realtà ci hanno chiamato, quindi dalla settimana prossima inizieremo il confronto e il dibattito con tutti quanti loro. C'è la possibilità anche di unirsi nella coalizione della sindaca francese? Noi non escludiamo niente, nel senso che punteremo, metteremo giù due o tre punti programmatici per la nostra città e li confronteremo con gli altri candidati sindaco. Poi ovviamente vedremo anche i loro progetti e i loro programmi e alla fine tireremo le nostre conclusioni. Soprattutto tanti giovani. I nomi sono Dario Toriello, Giuseppe Manzi, Alessio Cairone, Vincenzo Botte, Valentina Federico, io, Annalisa Giancarlo e basta, questi siamo, siamo sette. Sette componenti di un direttivo con tante proposte per battipaglia. Sì, soprattutto grandi proposte e cerchiamo soprattutto di riuscire ad aggregare più giovani possibile, che quello è il nostro scopo principale. Soprattutto quello di riuscire a creare un gruppo nuovo, perché no un gruppo nuovo e soprattutto staccandoci un pochettino da quelle che magari sono state fino ad ora le cose un po' più datate, non vecchie, perché comunque restano sempre, la politica è sempre comunque in continua evoluzione, è sempre attuale. Però quello che ci proponiamo noi stasera è quello di presentare, di ascoltare soprattutto ogni tipo di persona, siamo aperti a tutti quanti i tipi di inviti che ci verranno, speriamo che siano soprattutto tanti gli inviti che ci verranno fatti e noi siamo qui pronti ad ascoltare tutti, indistintamente, senza fare preferenze, senza niente.